Se da un lato il Consiglio Comunale approva gli sconti sull'Atari per chi ha subito disagi dai cantieri in centro storico per i commercianti, con la modulistica disponibile da oggi e con la riapertura delle domande sino al 15 dicembre dal momento che solo 8 commercianti erano riusciti a chiedere lo sconto, dall'altro cade sul documento unico di programmazione, alimentando le polemiche delle opposizioni che puntano il dito anche sulla crisi di maggioranza con Forza Italia, ancora non risolta, ma anche sull'assenza del Sindaco. Insomma, numero legale che manca è la maggioranza che si fa trovare con meno consiglieri rispetto all'inizio, scatenando le ire della minoranza. Con il Consiglio Comunale ieri abbiamo licenziato il provvedimento che permette di mantenere la scontistica Atari per gli esercenti commerciali del centro storico che hanno avuto problemi con i lavori di ripavimentazione del centro. I lavori sono stati interrotti a causa della mancanza del numero legale, questo non è sintomo di crisi di maggioranza come l'opposizione vuole far credere, fra di noi i rapporti sono più che positivi. C'è una dialettica interna fra i partiti ma all'interno del Consiglio Comunale noi lavoriamo per il bene della città e per portare avanti il programma di mandato. I consiglieri di opposizione sono stati durissimi parlando di centrodestra con la Brodo e che naviga a vista e che fa mancare il numero legale su temi chiave dopo che l'ultima seduta del Consiglio risaliva addirittura al 29 settembre. Il fatto che ieri sia mancato il numero legale su un atto così importante come il DUP restituisce in maniera plastica l'immagine di una maggioranza in frantumi molto presa dalle diatribe interne poco attenta ed avvezza invece all'amministrazione della città risolvere invece i problemi dei cittadini. Per di più aggravata da un'assenza ormai costante e perenne del Sindaco che non si vede in Consiglio Comunale ormai da tempo immemore e che quindi fa da cornice ad una situazione non più tollerabile che i cittadini spero siano ben consapevoli di come la situazione ormai è al collasso.